Lo scarto A volte lo scarto può mascherare le intenzioni del giocatore e può anche forviare gli avversari. È sconsigliabile per esempio cambiare tutte e cinque le carte, poiché si rischia di rivelare la propria debolezza. Oppure, nonostante si abbiano brutte carte, se ne possono sostituire soltanto due per mascherare un finto tris. Oppure ancora, anche se si è ricevuto un poker, si può chiedere di cambiare una carta e i movimenti degli altri giocatori potranno essere indotti da una errata previsione. C'è chi sostiene che con un tris convenga cambiare due carte nell'aspettativa del poker, oppure una sola carta cercando il full, oppure ancora non cambiare carta e simulare un ottimo gioco. Per esempio, il giocatore ha in mano 9, 10, jack e una coppia di donne, rispettivamente donna di quadri e donna di picche. Il giocatore preferisce scartare la donna di picche, quindi spaiare la coppia vestita e tentare una scala. Gli basterebbe un re di qualsiasi seme o un otto di qualsiasi seme per centrare l'obiettivo, rispettivamente la scala al re e la scala alla donna.